Ragazzi, ciao, eccoci qua. Allora, intanto diciamo che è una giornata in cui mi vedrete un po' dappertutto, perché ieri sono usciti anche i video che abbiamo fatto in collaborazione con Davom sul suo canale YouTube, con Colpo Gobbo sul suo canale YouTube. Oggi uscirà una collaborazione fatta con Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube. Ieri avete visto comunque la prima parte della conversazione, della chiacchierata. L'ho caricata qui proprio insieme a Fabiana, quindi mi vedete un po' dappertutto e mi avete visto anche su, ovviamente, il nuovo canale YouTube che abbiamo creato, tutti teorici. Vi ringrazio perché è veramente un neocanale YouTube che supera le 20.000 visualizzazioni con il video di lancio, con la puntata pilota. È un risultato incredibile. nel giro di veramente 30 ore, quindi praticamente un giorno, abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili. Anche di tutti i teorici vi lascio i link qui sotto in descrizione. E mi troverete, poi giuro che iniziamo a parlare davvero dell'argomento di oggi, ma mi troverete anche presto su Numero 10. Trovate sempre il link per scaricare l'applicazione qui sotto in descrizione. Perché? Perché già oggi ho intenzione di registrare e scrivere un articolo che usciranno poi nei prossimi giorni sull'applicazione. Quindi scaricatevi gratuitamente il numero 10, perché poi quei contenuti lì sono esclusivi. L'articolo lo potete leggere solo lì. Questo video esclusivo lo potete vedere solo lì. Quindi diciamo che sono un po' dappertutto. Mi trovate un po' sparso in giro per il web. Se avete interesse nel sentire quello che ho da dire su queste cose, vi aspetto anche sui canali dove sono ospite e sull'app dove sto portando avanti i miei articoli per ottenere il patente di una giornalista sportiva. Ieri sera, quando sono tornato da calcio e ho fatto il mio primo allenamento post-infortunio in finale di Europa League, sì, di YouTuber League, di Europa League magari, quindi la mia prima partitella, tutto bene, pian pianino si torna. Però mentre cenavo ho visto questo post della Juventus. Questo post della Juventus su Twitter che risponde a Report, perché da quanto ho capito ieri sera Report ha fatto uscire un servizio che parlava delle inchieste legate alla Juventus e a quanto pare Juventus ha deciso di difendersi anche dagli attacchi pubblici, sottolineando come Report avesse scritto a Juventus, Juventus avesse anche dato disponibilità per chiarire alcuni punti del tipo ti rimando per questo dubbio a quel comunicato stampa, per quest'altro ti rimando a quell'altro, per quest'altro ti rimando a quell'altro. E invece Report ha preso un po' di informazioni e citato soltanto parzialmente quello che Juventus aveva descritto all'interno della mail, dicendo anche che per coincidenza Report è andato in onda nelle settimane che vanno a precedere, nei giorni che vanno a precedere, la definitiva decisione se riaprire oppure no questo processo e quindi Juventus ieri mi è piaciuta, mi è piaciuta perché da tanti anni chiedevo a Juventus di essere meno passiva di fronte a tutte queste malelingue che continuano ad attaccare costantemente Juventus da destra, sinistra, durante la pausa mondiale spesso e volentieri ho citato questa cosa dicendo ci sono troppe persone che parlano, troppi che fanno i furbi perché tanto parlare male della Juventus, ma male male nel senso inesattezze, fake news, l'importante è parlarne, ci hanno fatto carriera e bisognerebbe iniziare a ragionare sulla linea della querela, sulla linea del combatto perché se tu ti permetti di fare disinformazione o comunque di gettare fango in maniera veramente pesante su una società, bene allora quella società deve difendersi. Non si era ancora mai difesa Juventus, perché è importante questa notizia? Perché domani sale il nuovo CDA e a quanto pare la linea guida del nuovo CDA è completamente differente rispetto a quella della politica della Juventus, della dirigenza della Juventus che c'è stata in questi anni, quindi vediamo se è una rondine che fa primavera, se è soltanto un primo passo, se sarà un qualcosa, un episodio isolato, ma il sapere che questa nuova dirigenza della Juventus vuole andare contro tutte queste persone che col fango sulla Juve ci hanno veramente costruito dei nomi, delle carriere, delle professioni e portano a casa il pane tutti i mesi, mi fa gasare, mi fa gasare, è giunto il momento probabilmente di iniziare a cambiare un po' quello che da tanti anni in Italia va avanti, non anche qua, non significa che Juventus sia innocente, tutti questi discorsi sono cose diverse, però se ci sono già i processi, hanno già deciso tutto prima dei procedimenti, prima delle decisioni degli ordini di competenza, se Juventus decide davvero di tutelarsi e di combattere questa cosa inizia a farmi estremamente piacere. Allora, domani sarà la vigilia di Juventus-Monza, di Coppa Italia, si giocherà all'Allianz Stadium, abbiamo già giocato contro il Monza noi in questa stagione, non è andata bene, non devo stare qui a ricordarvi quella partita, però in questo momento io ho una volontà, cioè facciamo un giochino, domani inizieremo ad avere delle informazioni più dettagliate su quelle che sarà la probabile formazione, su quelli che saranno i giocatori scelti da Allegri, ma oggi, che siamo all'antivigilia, che siamo a poche ore dalla sconfitta di Napoli ancora, cercando anche di continuare il discorso che facevamo ieri da Davom, e cioè il discorso di non solo magari i risultati, dato che in questo momento trofei e risultati difficilmente a media aspetto da parte della Juve, è allora la creazione del valore, il dare continuità a determinate scelte. Qual è la formazione che mi piacerebbe vedere, che è diversa da quella che sarà e da quella che immagino sarà? Perché molto probabilmente non sarà questa, la formazione della Juve, ma qual è la formazione che mi piacerebbe vedere schierata in campo da Allegri gli undici, il modulo, il tipo di approccio alla gara? Quindi cerco di descrivermi un po' quello che mi aspetto, quello che vorrei, non quello che mi aspetto, quello che vorrei come risposta dalla Juventus dopo l'umiliazione di Napoli. Quindi cambiamo schermata ed è questa. Partiamo con il cambio modulo, nel senso che è sempre difesa 3, continuerei sull'onda della difesa 3, che ha funzionato molto bene comunque in queste nove gare in cui l'abbiamo utilizzata. Credo che ci sia stato un cambio netto di impronta e credo anche che il secondo tempo di Napoli sia degenerato in quel modo proprio perché si era tornato nella difesa 4. Con Aleksandro Centrale, con Kostic Terzino, se si è andati così tanto bene a 3, può essere un dettaglio, e lo dico da non amante della difesa 3, può essere un dettaglio, va bene, inseguiamo quella falsa riga lì. Però con una modifica, un giocatore di più sulla tre quarti lì davanti e un giocatore meno a centrocampo. Quindi parto dalla porta, Perin. Perin perché Szczesny ha già giocato le sue partite quest'anno e Perin, quando Szczesny è stato indisponibile, ha risposto assolutamente presente, con delle ottime prestazioni, quindi in Coppa Italia mi aspetto la titolarità di Perin, un po' come era stato l'anno scorso, quindi Perin a difesa della porta. Bremer, perché Bremer ha fatto una brutta figura l'altro giorno, probabilmente non era nemmeno al top dal punto di vista di forma fisica, quindi credo che debba giocare un'altra partita per prepararsi al meglio alla sfida con l'Atalanta, che sarà difficilissima, quindi Bremer lo farei giocare assolutamente lì davanti alla difesa. Gatti e Rugani, perché sono i due giocatori che in questo momento stanno giocando meno e tra virgolette sono le riserve di Danilo e Alexandro, quindi Gatti e Rugani che sono seconde linee, giocatori che si sono visti poco, anche giocatori come Gatti che comunque è la prima stagione all'eventus, prima stagione in Serie A, è giusto avere a disposizione all'interno di una gara di Coppa Italia, tra l'altro sulla carta nemmeno troppo complicata in una partita come quella contro il Monza, che poi Monza sta facendo molto bene in realtà con Palladino in panchina proprio a partire dalla partita con la Juve, quindi cerchiamo di non sottovalutarli, però mal che vada si può optare per uno tra Danilo e Alexandro al posto di Gatti e Rugani, però mi piacerebbe vedere Bremer Gatti e Rugani in difesa. Sugli esterni, Barbieri a destra e Iling a sinistra, perché? Perché a destra c'è soltanto quadrado, bene o male, di veramente adatto al ruolo all'interno della Rosa, quindi mi piacerebbe vedere proprio Barbieri, titolare, che è un giocatore che per caratteristiche lì ci può giocare, ci potrebbe giocare pure Descilio, ma ormai è andato a chi l'ha visto. Chiesa abbiamo visto che è un giocatore che ragiona in avanti, Sule è un giocatore che ragiona in avanti, quindi quella posizione mi piacerebbe vedere Barbieri, capire se può essere adatto, dato che comunque è una partita di Coppa Italia, è una partita contro una squadra di livello, sì, da Serie A, ma una squadra che secondo me la Juventus può battere. È stato strano il risultato di Monza, in teoria sulla carta non dovrebbe essere la normalità e Ealing perché è il vero e proprio vice Kostic lì a sinistra, quindi mi piacerebbe dare anche un po' di riposo, di respiro a Kostic, che è un giocatore impiegato da Allegri sempre praticamente perché è l'unico giocatore che non ha mai saltato nemmeno una partita, il secondo è Danilo che ne ha saltata una per squalifica in Champions League contro il PSG al ritorno, due giocatori che potrebbero tirare il fiato proprio perché poi domenica sera giochiamo una partita molto più complicata con l'Atalanta e anche perché comunque due ragazzi che uno Ealing ha rinnovato per rimanere in prima squadra e quindi un giocatore della prima squadra, il secondo Bavriere ha rinnovato per essere un giocatore da next gen però è uno che comunque viene convocato spesso in prima squadra e dato che lì abbiamo un buco piuttosto che adattare, far giocare, spostare, snaturalizzare i giocatori facciamo giocare uno che lì in teoria ci sa giocare Fagioli e Chiesa sulla tre quarti ma dietro di loro Rabbio e Paredes Paredes perché? Perché da Paredes io voglio vedere qualcosa a un certo punto e credo che una partita del genere sia logica per un giocatore che ha perso i gradi da titolare all'interno della Juve e quindi da Paredes mi aspetto una grande partita col Monza perché? Perché non sei titolare, devi cercare di conquistare il posto titolare allora facci vedere, mostracelo, anche perché sei a rischio di scatto quindi dovresti andare ancora di più quindi io Paredes dopo domani sera lo voglio vedere in campo titolare Rabbio perché è un insostituibile di questa Juventus è perché nel centrocampo a quattro di fianco a un regista come Paredes probabilmente ci serve un giocatore di gamba come Rabbio Fagioli spostato leggermente più avanti potrebbe essere anche un 3-5-2, no? Paredes avanti alla difesa, Rabbio centrosinistra e Fagioli centrodestra ma secondo me Fagioli deve avere la possibilità di sganciarsi e andare molto più vicino alla porta perché Fagioli può essersi una mezzala una mezzala di palleggio, una mezzala di costruzione una mezzala di possesso ma secondo me il meglio Fagioli lo dà più vicino alla porta quindi un giocatore più offensivo rispetto al classico centrocampista la classica mezzala quindi mi piacerebbe vedere Fagioli che si sgancia e va molto di più sulla 3-4 così come Chiesa che deve partire da sinistra per accentrarsi, liberare il tiro ma può partire anche da destra a seconda delle situazioni quindi Fagioli potrebbe diventare una sorta di 3-4 quindi questa libertà assoluta a Fagioli a seconda di dove deve andare di cosa deve costruire con il pallone e questa possibilità di Chiesa di partire da lontano da fuori area quindi non fare proprio la punta ma avere la possibilità di essere una sorta di seconda punta o di esterno insieme a Dealing che comunque si va a prendere la fascia sul lungo e Chiesa invece si va a prendere il taglio verso l'interno quindi secondo me questa è la configurazione più logica anche per i giocatori a disposizione è davanti Ken perché un po' che non lo vediamo Ken un po' che è caduto tra virgolette nel dimenticatoio era il giocatore che ci aveva aiutato tanto nel finale di stagione pre-mondiale quindi nel fine 2022 e Milik secondo me è un giocatore che deve cercare di limitare un attimino nel frattempo che torni Vlaovic che ieri comunque si è allenato in gruppo con Pogba hanno fatto tutta la seduta intera insieme ai compagni questa è un'ottima notizia però Milik lo vorrei tenere bello, fresco, tranquillo, riposato per la partita di Bergamo mentre Ken che è un 2000 penso che possa benissimo fare due partite di fila anche se immagino che con l'Atalanta non vedremo due punte dall'inizio secondo me vedremo una punta sola più eventualmente di Maria che farà il trequartista il giocatore che gira all'intorno quindi questo è un po' il mio desiderio con alcuni giocatori che devono dimostrare qualcosa devono dimostrare di essere la Juve come Paredes come se vogliamo gatti perché a me a me non piace mai mettere gatti nella categoria giovani perché gatti comunque un 98 cioè dipende cosa intendiamo per giovani per giovani giovani io ti dico Ealing è un giovane giovane Barbiere è un giovane giovane Fagioli è un giovane giovane Ken no nonostante l'età molto simile perché ha già avuto esperienza comunque un giocatore del 2000 sì ma è alla sua terza quarta stagione quarta stagione tra i professionisti Gatti è un 98 è giovane per esperienza ma non di anagrafica Fagioli è la sua prima stagione in serie A e se vogliamo è molto più simile a Gatti Barbieri ha tutto da guadagnare così come Ealing quindi giocatori che devono comunque dimostrare come Paredes e Rugani se vogliamo e Moise Ken Federico Chiesa che torna a titolare ancora una volta senza dover fare il terzino Rabiot che è una grande certezza della Juve Bremer che deve ritrovare se stesso dopo una giornata infernale due giocatori davvero in rampa di lancio come Barbieri e Ealing in due posizioni congeniali perché comunque in quella posizione secondo me ci stanno veramente bene e Fagioli che è stato il grande escluso di Napoli che torna in una posizione anche probabilmente più adeguata alle sue caratteristiche quindi questa è la formazione non avrei dubbi se potessi deciderla io la formazione la farei così con questi dettami questi movimenti queste posizioni spiegate per queste ragioni qua vediamo se anche solo lontanamente possiamo arrivarci ma immagino che comunque Danilo e Costi ci giocheranno immagino che Barbieri non verranno nemmeno presi in considerazione vediamo ci sono un po' di cose mi sarebbe piaciuto inserire anche Soulet e Miretti possono essere un cambio nei tre lì davanti probabilmente sulla tre quarti per Chiesa che comunque non ha la possibilità di giocare tutti i 90 minuti perché ovviamente è in fase di recupero quindi non ha ancora i 90 minuti nelle gambe magari Miretti sul centro-sinistra al posto di Chiese sulle sul centro-destra al posto di Fagioli possono essere due rotazioni interessanti ma voglio sapere un po' anche la vostra qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra formazione ideale per Juventus-Monza che sembra una partita scontata banale ma secondo me è una partita da crocevia che ci farà capire anche un po' quanto ci ha fatto male effettivamente col 5 a 1